Si sa molto della canapa illegale, la marijuana, molto poco di quella medica. Del suo uso terapeutico e del trattamento di alcune patologie, che basta la prescrizione di un medico e che nulla a che vedere con quella venduta dai cosiddetti grow shop, spuntati come funghi e anche nella città di Napoli, l'opinione pubblica va informata, secondo gli esperti intervenuti al convegno Cannabis Medica e Preparazioni Galeniche, le sfide in campo formulativo, farmaceutico e clinico. Responsabile scientifica del convegno, Agnese Miro, docente presso il Dipartimento di Farmacia dell'Università Federico II. La Cannabis Medica viene allestita dai farmacisti nelle farmacie sia di comunità che ospedaliere e in questo momento storico che ci sono mancanze di alcuni farmaci, ecco che la Galeniche, quindi il ruolo del farmacista nell'allestimento dei medicinali, diventa preminente. Per quanto riguarda i medicinali a base di cannabis, dicevo, quelli prodotti dall'industria ne sono proprio pochi, in Italia ce ne sono solo due, il Sativex e l'Epidiolex, per cui tutte le... non sostituiscono allora, sono definiti medicinali che vanno utilizzati quando i comuni medicinali per quella patologia non hanno dato gli effetti desiderati. Nel dolore, nel dolore clonico, nella SLA, nelle spasticità, stanno riscuotendo veramente un ottimo consenso da parte dei pazienti, per cui questi medicinali sono prescritti e veramente di giorno in giorno aumentano il numero di prescrizioni. Con Pierluigi Petrone, presidente di Assoram, abbiamo parlato invece degli aspetti economici derivanti dallo sviluppo del settore. Devo dire che la campagna sicuramente sta facendo un grande lavoro, ha costituito un tavolo tecnico presso la regione, proprio sulla cannabis terapeutica, e penso che un opportuno confronto tra il mondo di chi fa distribuzione e quindi accesso di queste nuove terapie presso le farmacie e la parte prettamente governativa istituzionale possa essere il vero valore aggiunto per dare ai cittadini di questa regione e casomai partire da questa regione è l'esempio per tante altre, possa essere un grande valore aggiunto.